Non solo FIJC nel campionato di calcio algherese ma anche tanta Wisp, siamo qua con il presidente dell'amatori Nettuno, Davide Simula, presentazione oggi anche della nuova maglia. Assolutamente sì, ci andiamo ad affrontare un'ennesima stagione in CSI, speriamo con le stesse soddisfazioni che abbiamo raccolto negli anni scorsi. La novità di quest'anno è che è diventata una squadra finalmente multietnica, ospitiamo volentieri due ragazzi richiedenti asilo politico che sono ospitati al Valmarie, due ragazzi molto giovani ma di grandi prospettive. Oltre a questi due ragazzi ovviamente abbiamo anche i nostri giovani che compongono la rosa già da diversi anni che hanno scelto di non fare il campionato FIJC ma fanno il campionato appunto con il CSI. Tra le fila anche abbiamo vecchie glorie del calcio algherese non solo, tra cui appunto Tore Ballone che ha scelto anche quest'anno di essere con noi, giocatore ormai esperto naturalmente che ha anche rivestito la maglia della rappresentativa Sarda. Tore Ballone che conosciamo bene, infatti non è venuto qua a fare il modello per la nuova maglia ma per darci anche la sua impressione su questo nuovo campionato. L'importanza che rivestite voi, giocatori più esperti, nei confronti di chi viene a giocare con voi per la prima volta? No, noi cerchiamo di dare sempre l'esempio ai più giovani, la passione che abbiamo sempre avuto noi nel mondo del calcio, poi vediamo un pochettino come si comportano. Il primo consiglio che dai a un ragazzo che arriva a giocare con voi, qual è? Che tipo di ragazzo più che giocatore deve essere? Un ragazzo volenteroso, voglioso di far parte di un bel gruppo come siamo sempre noi tutti gli anni e divertirsi più che altro. Quindi l'importante in questo caso non è tanto vincere, anche se poi uno gioca per vincere, ma soprattutto divertirsi. Beh, vincere, si entra in campo per vincere sempre, poi naturalmente ci si diverte pure, ci si diverte. Ringraziamo quindi Tore Ballone, il presidente Davide Simula dell'Amatore Nettuno e vi invitiamo anche a andare a vederli giocare perché ci si diverte. Grazie per la visione!